buonasera cari amici di tavola calda benvenuti alla rubrica dell'inesperto che in questo caso sarei io non mio fratello che ha la voce simile a me che quella che sentite solitamente lui al contrario di me è molto esperto e oggi prendiamo in esame questo volume marvel chiamato visione eccolo qua lo potete ammirare qui in tutto il suo splendore copertina cartonata molto molto bello abbastanza grande anche pesante direi prezzo di 27 euro panini comics è un capolavoro di tom king e gabriele nandes valta i quali io non so per niente chi siano quindi cerchiamo di informarci un po da qui dietro cosa la prima cosa che fareste voi qual è leggere un po giustamente il riassunto nel retro visione il sintezoide organico dell'universo marvel ha solamente un desiderio essere umano e cosa c'è di più umano del farsi una famiglia così letteralmente visione va in laboratorio si costruisce una moglie e due figli tutti con la stessa ambizione ma cosa succede quando il bisogno di essere umani diventa un'ossessione a quindi lui si vuole avvicinare agli umani crea questa famiglia diciamo antropomorfa e ne diventa dipendente vuole diventare umano bello interessante mi piace l'acclamato sceneggiatore americano tom king di batman e il disegnatore spagnolo hernandez di magneto e new mutants uniscono le forze per una storia dal sapore di ineluttabile tragedia che reinterpreta visione per il nuovo millennio bello mi ha intrigato vediamoci qualche oh questa sarà la cassetta della posta della famiglia robotica vediamo qualche tavola ovviamente a colori bello lui qui vola è anche un po' tipo supereroe molto bello ragazzi devo dire che da in esperto mi ha intrigato non so a voi diteci ciò che ne pensate sia di questa rubrica sia di questo formato sia di questo volume e albo in generale che sembra veramente veramente bello lasciate un commento mettete un like e diffondete diffondete la tavola calda arrivederci